Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. È scoppiata la bomba. Dejanira Marzano, la celebre diva del gossip, ci ha appena lanciato una delle sue succose indiscrezioni, che potrebbe infiammare il torrido panorama estivo. Stiamo parlando dell'accattivante duo formatosi tra due protagonisti di Amici, il talent show che ha tenuto incollati alla TV milioni di italiani. Intrigati? Tenetevi forte! Stiamo parlando della ballerina Giulia Stabile, e il carismatico cantante Wax, volti indimenticabili delle edizioni 20 e 22 del programma, con Giulia, che ha portato a casa la vittoria. La fiamma tra i due sembra essere scoccata qualche sera fa, nel ritrovo chic dell'old fashion di Milano, dove una spia ha riferito di averli visti danzare con grande intimità. Ciao Dejanira, ieri sera ero all'old fashion a Milano, e c'erano Giulia Stabile, la ballerina, e Wax di Amici, che ballavano insieme, e sembravano molto affini. Sono due giorni che ci vanno insieme, così ha riferito la testimone. L'atmosfera si fa sempre più calda. Pare che Giulia e Wax siano stati avvistati nello stesso locale per ben due giorni di fila. A corroborare la segnalazione, la Marzano ha pubblicato alcune foto che, nonostante la sfocatura, mostrano i due nel locale milanese. Ma stiamo parlando di un'avventura estiva? O di qualcosa di più serio? Dejanira stessa ammette di non avere confermi, ma di notare una grande alchimia tra i due. Resta ancora da scoprire se la coppia sta passando del tempo insieme come amici, o se è in atto una fiammante love story. Da tenere in considerazione, il fatto che Giulia ha stretto numerosi legami con gli ex allievi di Amici. Grazie al suo ruolo di ballerina professionista, ha avuto l'opportunità di trascorrere molto tempo con i ragazzi, costruendo relazioni che perdurano oltre il set televisivo. Recentemente, l'abbiamo vista in compagnia del ballerino Samuel Segreto, e dell'australiana Isabel. Non dimentichiamoci di Rudy Zerbi, che solo pochi giorni fa, ha postato una foto in cui era a cena con Giulia, Samuel, Wax, e altri ex concorrenti di diverse edizioni di Amici, come Luigi Stringis e Debbie. Potrebbe quindi trattarsi semplicemente di amicizia tra Giulia e Wax. Tuttavia, gli osservatori più attenti, notano che i due sono stati visti da soli al locale, senza la compagnia di altri amiciani, e in atteggiamenti intimi. Chissà, dopo la fine della sua lunga relazione con San Giovanni, forse Giulia ha ritrovato l'amore nelle braccia di Wax, il terzo classificato dell'ultima stagione del talent show. Non ci resta che attendere per scoprire la verità. L'estate, come sempre, promette scintille. Che ne pensate? Secondo voi è amore? O una semplice amicizia? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie 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 Grazie